Godetevela, le sue parole ancora le sentiremo gattuso su SkySpar24 Le hai fatti regalo a Gigi? Mi sto attrezzando, mi sto attrezzando No, non vale dopo, non vale, non vale Ma non è che ho detto dopo, mi sto attrezzando, finisce a mezzanotte ufficialmente Perché voi donne volete i 3 diamantini, là i 40, dopo i 50 volete i 6 diamantini Parla a te sua, perché tu ora mi interessa, non ho chiesto, non è che ho chiesto il giorno di compleanno Però dopo, privatamente comunicherò il regalo, va bene? Dagli un bel bacio con la lingua al posto mio, va bene? E dì che gli voglio bene, mi sta giudando Gattuso sta cercando, faticosamente da anni, di mantenere una certa distanza da tutto questo Ora dobbiamo fare casa all'amico Buffoni in onda? Grande Cigione, bravo Per fortuna c'è il calcio d'inizio dell'Olimpico Non posso più parlare, purtroppo, Rino Gattuso